Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Questa sera inizia una nuova edizione di Tisco e Vales, con la conduzione di Alessio Sacara, Martin Castro Giovanni e Giulia Stabile. La ballerina, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è stata al centro del gossip per un presunto flirt con un attore protagonista della serie tv spagnola Light. Chi è Manu Rios, il presunto fidanzato di Giulia Stabile? Qualche mese fa Giulia Stabile è stata vista insieme a Manu Rios, l'attore di Light, durante un evento. I due sono stati fotografati e filmati e in un video sui social si vede l'attore guardarla con occhi luminosi, scatenando ipotesi su un possibile flirt. Tuttavia la ballerina ha smentito prontamente la notizia, riprendendo un articolo uscito a giugno e scrivendo su Instagram, ma magari, negando così qualsiasi rumor. Giulia Stabile e la rottura con San Giovanni il suo primo amore. Giulia Stabile e San Giovanni sono stati la coppia che ha fatto sognare i fan di Amici di Maria De Filippi. Nonostante la loro riservatezza, si sono lasciati per diversi percorsi di crescita intrapresi da entrambi. Durante l'ultimo festival di Sanremo, condotto da Amadeus, San Giovanni ha portato il brano Finiscimi, dichiarando che era una lettera d'addio a Giulia Stabile. Una canzone intensa che si discosta dal suo precedente stile. Non voglio cancellare il passato, il contesto in cui sono nato, ma ora sono cresciuto, non sono più quello di Farfalle e Malibu, non faccio più la stessa musica, ha dichiarato San Giovanni. Sono versi dedicati alla sua ex ragazza, il suo grande amore. Giulia Stabile in una precedente intervista ha dichiarato, per me lui è e resterà.